Il capodanno più bello della mia vita. È così che il cantante siracusano Roy Paci ha commentato su Facebook subito dopo lo spettacolo di fine anno che ha tenuto in piazza a Pozzallo. Prima il tribute band Ligabue e poi DJ e vocalist hanno infiammato l'ultima serata pozzallese del 2018, ma l'ospite più atteso è stato proprio Roy Paci. Con lui, la sua inseparabile band Aretusca, davanti a lui tutti sotto il palco dalla prima nota senza smettere di ballare un bagno di folla. Ma non solo musica a Pozzallo per l'ultimo giorno dell'anno, c'è stato spazio anche per messaggi sociali ed accoglienza. Lo stesso Roy Paci, ricollegandosi al messaggio del sindaco Roberto Ammatuna, intervenuto a inizio serata, ha rimarcato i valori dell'accoglienza in controtendenza con i proclami della politica nazionale di chiusura e di criminalizzazione delle differenze. Ma a riscaldare la serata è stata proprio la musica del cantante Aretuseo ed i vari DJ sette che si sono susseguiti fino a tardanotte, quando Roy Paci ha ringraziato tutti i presenti per l'accoglienza e l'affetto dimostrato. I ragusani hanno contribuito a rendere la serata magica con la speranza, ha commentato l'artista, di rivedersi presto sempre sullo stesso palco.